... Anche Daga, giocato a sinistra, avanzata di Urso come sempre, uno sprint, la tecnica di Oliver Urso. Sono Sibilia, Palermo e Daga, oltre ovviamente a Urso, che va ad effettuare adesso questo calcio piazzato. Il pallone al centro dell'aria per Paschirotto, che la mette ancora in... Bianchi, Urso, gran numero di Urso che salta Ciofani. Urso prova ad andare, Urso attenzione alla... ...la necessità di trovare uno spazio che non ha... ...lo fa adesso chiamando la corrente Urso, buono il dribbling, l'entrata e il tiro, la parata di Ben Conighe... ... 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 Volpicelli prima di tutti a cercare di ribaltare subito il lato, può andare da solo Uso che ha spazio, arriva a rimorchio che è in panchina adesso Diallo esce fuori da una situazione complicata, perde il pallone bravo! Grazie!